Il totalizzatore che più o meno ha sempre le proporzioni di prima, è sceso di qualcosa Barlock, sono aumentati oltre il 4 contro 1 gli immediati controfavoriti. Intanto sono partiti con Monimais che è andato a condurre davanti a Vanessa Del Cardo, poi di fuori subito Barlock che forza sui primi, seguito da Itasip, poi di rincalzo ancora Rabajan e la data di Giulio, cavalli che vengono davanti ai tribuni in coda Warm Hearted, guida una coppia composta da Barlock che ha all'interno Monimais, si va il giusto con in terza corsia Itasip che muove sui primi quando inizia l'ultimo giro di pista e Barlock ha sfondato con Veronica Grasso Caprioli che è passata a condurre davanti a Monimais, in quarta posizione il 5 di la data di Giulio, poi gli altri in una lunga fila indiana che si allunga ancora sotto il ritmo impresso da Barlock, il favorito che scappa e che guadagna margine già a imboccare addirittura di là, a metà percorso circa, metà gara con Barlock in vantaggio, poi dalle retrovie pur a muovere di fuori anche Vanessa Del Cardo, anticipata da Warm Hearted che ha rifatto parecchio gap e si porta sui primi, poco prima dell'ingresso sulla curva conclusiva, sta passando Warm Hearted che ha colto anche forse in crisi Barlock, poi sempre Monimais che era in testa e poi secondo e adesso terzo e quindi gli altri, colpo in contropiede di Renato De Rossi con Warm Hearted che ha richiesto all'ingresso in dirittura arrivo perché si li fa minaccioso Barlock al suo inseguimento, 200 per andare al traguardo, in terza posizione sempre Monimais, anzi numero 4 di Itasip, mi correggo nel tratto ultimo Barlock che cerca la rimonta interna, duello testa a testa, Warm Hearted ancora in vantaggio, Barlock di dentro, poi per il terzo, vediamo l'arrivo stretto perché c'è Itasip che aveva scavalcato Monimais e che va a lottare con probabilmente la Dazi di Giulio, ma questo andiamo a rivederlo nel replay, seguivamo la lotta per la vittoria con Warm Hearted, Renato De Rossi per il training di Stella Giordano, festa della donna e quindi parecchie donne trainer a mettere la firma nella casella dei vincitori.